Allora con Simone Puntisso, classe 97, Simone arriva a Vicenza, centrocampista centrale, ma che può giocare anche a destra. Tu cosa preferisci? Come hai giocato? Sei stato anche in Serie A con l'Udinese, in B con la promozione alla SPAL, eccetera. No, io ho sempre sempre giocato play in qualsiasi squadra in cui sono andato. Fin da piccolo ho sempre giocato davanti alla difesa. Comunque mi hanno anche provato mezzala, centrocampo a destra, trequartista, quindi però comunque nasco come play. Ecco, nel nuovo gruppo tu li hai conosciuti da pochissimo perché sei arrivato, forse devi ancora fare un allenamento. Devo ancora conoscerli, oggi è il primo allenamento, quindi ho visto solo la Rosa e comunque so che è una bella squadra, però devo ancora conoscerli personalmente. Veniamo invece alle piazze in cui hai giocato Udinese, una piazza sempre partecipata, la stessa SPAL. Arrivi a Vicenza che è sempre una piazza importante. Sì, sicuramente è una piazza importante, come è stata Ferrara una piazza importante, l'Udinese è una piazza importante con tanti tifosi. Anche qui a Vicenza mi sembra la piazza giusta per ripartire, per ricominciare, perché sono carico, ho tanta voglia di giocare e mettermi in mostro. Ecco, la tua scelta per venire a Vicenza probabilmente è stata dal fatto che eri comunque in rose con altri giocatori importanti e quindi per farti spazio era difficile, forse. Sì, a Udine non ho trovato spazio e sono venuto qui perché il direttore mi ha voluto fortemente. La società crede in me, io non ho avuto dubbi di scegliere a Vicenza. Quindi dovrai cominciare ad avere una forte intesa con Cinelli, penso che a centrocampo, no? E poi un po' sia col reparto del retrato sia con gli attaccanti. Sì, poi pian piano li conoscerò meglio e comunque sì, dovrò creare una bella intesa con i miei compagni di squadra. Che obiettivo ti dai per questa stagione? Beh, innanzitutto giocare più partite possibili perché sono fermo da un po' di tempo e questo è il mio obiettivo principale, quello di giocare tanto e mettermi in mostra. Ecco, tu nel tempo libero, ne avete poco voi, i giocatori, insomma, che fate sport a livello professionistico, che cosa prediligi? Il cinema, il teatro, la lettura, i fumetti, eccetera? A me piace andare al cinema con la mia ragazza o sennò giocare alla play con i miei amici. Ecco, ma tu ti trasferirai quindi a Vicenza con la ragazza o no? Con, con la ragazza. Oh, e questa è una bella cosa, diventerete vicentini. Eh sì, può darsi, dopo un po' di mesi diventiamo vicentini. Forza Vicenza. Forza Vicenza.